E' un sogno che ben presto diventerà realtà. Fortemente voluto dal fondatore dell'Africa Chiama, Italo Nannini, il progetto per lo Zambia sta venendo alla luce. Di fianco alla scuola, che ospita mille bambini di tutte le età, l'associazione ha realizzato un centro di maternità con 16 posti letto. D'altra parte, il Ministero della Salute Zambiano provvederà al personale specializzato come dottori, infermieri, ostetriche e un ginecologo. La struttura è costata più di 50.000 euro e potrà dare una nuova speranza alle oltre 400.000 persone che fino ad oggi possono contare soltanto su un ospedale con appena 8 posti letto. Si stima che a Caniama ci siano 1.250 bambini con disabilità, un numero molto elevato a causa della mancanza di vaccinazioni infantili, cure inadeguate e carenza di gene, fattori che mettono i più piccoli a rischio di contrarre malattie come febbre gialle e meningite. Oppure di non riuscire a sconfiggere la malaria in età prenatale. Nei prossimi mesi però, grazie al container della solidarietà partito nel tardo pomeriggio da Bellocchi di Fanno, arriverà tutto il materiale raccolto dall'Africa Chiama, attrezzature biomedicali e arredi per un valore di oltre 52.000 euro. Avevate lanciato anche una raccolta fondi per coprire le spese di spedizione. Avete avuto un riscontro? Sì, la cittadinanza di Fanno come sempre ha risposto in maniera positiva e c'è da dire però che ancora la raccolta fondi è attiva e troverete appunto sulla pagina web del nostro sito tutte le informazioni. C'è una raccolta aperta ancora su Facebook e partirà a breve una lotteria solidale finalizzata appunto a completare l'opera. Mancano ancora delle attrezzature mediche che compreremo direttamente in loco e anche per coprire chiaramente i costi molto onerosi del container. Soltanto per la spedizione infatti sono necessari quasi 10.000 euro. Il container partirà poi dal porto di Livorno e l'arrivo è previsto per il 18 agosto a Beira in Mozambico. Da lì proseguirà fino all'Usaka. Il nostro ringraziamento va chiaramente a tutti i donatori, sostenitori, i tanti volontari che hanno contribuito ad allestire questo container, all'azienda Marche Nord per la donazione di letti e arredo biomedicali e a tante aziende del territorio. Alla conferenza stampa questa mattina ha preso parte anche il Vescovo Armando Trasarti. I miracoli della solidarietà nel terzo mondo ha detto sono proprio questi. 52.000 euro questo. Un dirigente del comune posto 150. Diciamo a Reteressa di Calcutta che la carità o ti impoverisce o fai solo beneficenza. Mi piace l'Africa Chiama perché la gente ci mette la faccia, non le istituzioni. A dare proprio contributo anche il comune di Fano che con circa 4.000 euro aveva sostenuto fin dal 2019 il progetto dell'Africa Chiama. È un'iniziativa che si collega davvero in maniera evidente anche con Fano, città delle bambine e dei bambini. È un bel segnale che noi diamo con questo sostegno perché avere un centro di maternità lì in Zambia e quindi poter garantire davvero il diritto alla salute e la possibilità di poter nascere in condizioni civili tanti bambini è davvero un segnale importante che questa comunità, la comunità di Fano fa e dimostra di essere davvero solidale.